Una tecnologia innovativa a ultrasuoni per allontanare gli ungulati dalle coltivazioni senza arrecare danni agli animali è al centro del progetto pilota Ultrarep, Ultrasound Animal Repeller, finanziato dal programma di sviluppo rurale e presentato a Firenze dall'Agenzia Formativa di Confagricoltura. La Toscana è la seconda regione d'Europa per densità di cinghiali, daini e caprioli. I capi stimati sono 400.000. Per difendere le coltivazioni la regione ha previsto forme di abbattimento ulteriori rispetto a quelle tradizionali ma è alla ricerca di soluzioni alternative, anche tecnologiche, come gli ultrasuoni. Quindi provare a porre rimedio a questa che è una piaga per l'agricoltura in generale ma a noi ci interessa l'agricoltura della Toscana per come riuscire ad arrestare i danni e permettere alle aziende di poter essere più competitive e poter avere una maggior rispondenza con quelle che sono le attese dei mercati. I ultrasuoni sono usati ultimamente nella distorsione di ungolati perché rappresentano un'innovazione che permette agli agricoltori di poter proteggere le loro attività agricole senza l'utilizzo di barriere fisiche che creano problemi ambientali e problemi agli animali. Quindi con una tecnologia innovativa che si basa sugli ultrasuoni riusciamo a tenerli lontani cercando di utilizzare ultrasuoni che non incidono su altre specie animali. La tecnologia ultrasuoni può essere usata anche per animali predatori e la regione toscana si è resa disponibile a monitorare anche questa possibilità.